Musica 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 questa piccola un giro al cuore una spada di acqua ho messo su questi miei volumi modelli che girano poi ho resinato con il pennello il sono in una nuova per cui ci sono sì quindi io fare la scuola l'essere molte l'essere non ci sono i no per